Il mio nome è Luca e sono molto felice di essere parte della Guitare Academy di Amsterdam I've been teaching guitar for many many years And every time I have a new student, we have a great time Why ? perché abbiamo compito la stessa pezzi, la gitarra. Grazie a tutti